Ciao a tutti e benvenuti alla lezione prova dell'ultima raccolta della One World Online School. La One World Online School è il nostro ultimo progetto, infatti abbiamo deciso di migliorarci con un abbonamento di livello base, intermedio e avanzato e ogni mese c'è un tema sempre nuovo. Che cosa trovate nei nostri corsi? Prima di tutto le mie video lezioni, poi le schede di grammatica, del lessico e gli esercizi di autovalutazione. Dunque ragazzi, mi raccomando, godetevi questa video lezione e poi iscrivetevi subito e diventate miei studenti online. Vi aspetto! Ciao a tutti, ora vi do realmente il benvenuto in questa lezione di livello reale, scusate, di livello avanzato. Allora, se avete seguito il modulo precedente, voi saprete di che cosa parleremo realmente oggi. Scusate ragazzi, sto usando sempre gli stessi aggettivi e averbi perché in questi giorni qui non si parla d'altro. Come di che cosa ragazzi? Bene, adesso vi spiego. Ragazzi, stasera sono stata invitata a cena dalla famiglia reale. Chi, cosa, come, quando, perché, ecco perché hai quella coroncina. Ragazzi, ricordatevi di guardare il primo modulo di presentazione, così sarà molto più chiaro tutto il resto. Va bene, dunque, come stavo dicendo, il tema di oggi è la famiglia reale. No, scusate, il tema di oggi è la cucina italiana. Va bene, scusate, ma in questi giorni io sono ossessionata. E voi mi chiederete, ma che c'entrano i reali con la cucina italiana? Ma forse tu guardi troppa televisione? No ragazzi, niente di tutto questo. Come vi ho preannunciato, questa settimana avremo il grande onore di ricevere alla scuola One World alcuni componenti di una delle famiglie reali presenti al mondo. Ragazzi, ebbene sì, per motivi di privacy io non posso dirvi di quale nazionalità sono queste illustri persone e di quali origini, di quale casa reale. Dobbiamo mantenere la massima privacy. Però, come vi ho detto, mi hanno invitata a cena stasera e io sarò in più la loro insegnante. Stanno arrivando, come vi ho detto, stanno arrivando a momenti, tra un po' andremo a cena e da domani io sarò la loro insegnante. Io sto tremando soltanto all'idea. Da una parte mi sento molto lusingata di questo illustre incarico che mi è stato dato, ma dall'altra io purtroppo temo di non esserne all'altezza e di combinare guai per colpa della mia goffaggine, dunque di fare gaff come al solito, ma questa volta si tratta di un evento molto 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 formale. Infatti voi mi dovreste aiutare. Comunque io adesso vi racconto come sono andate le cose, come si è organizzato il tutto. Allora, come vi ho detto, in questa raccolta il tema è la cucina italiana e io ogni volta realizzo tre livelli, diciamo tre raccolti di tre livelli, sullo stesso tema. Livello base, livello intermedio e livello avanzato con voi. Allora, per il livello base io ho realizzato una lezione con una buonissima ricetta e ho preparato le melanzane alla parmigiana, un piatto tipico, è riuscito molto buono, erano tutti contenti e allora per il livello intermedio ho deciso di realizzare un'altra delizia. Ma purtroppo le cose non sono andate come io speravo e come tutti speravano che andassero e purtroppo si è bruciato tutto e allora niente, ho dovuto trovare una soluzione, chiamare un ristorante col servizio a domicilio, eccetera. E dunque a livello avanzato ho pensato dai realizzerò un ottimo piatto da leccarsi i baffi e questa volta farò più attenzione ed ero già pronta a fare questa lezione. Dopodiché David improvvisamente mi ha convocata nel suo studio. Io ho pensato oddio che cosa ho fatto adesso, accidenti, niente, sono andata da lui nel suo studio e gli ho detto David che c'è? Lui aveva un'aria molto seria e preoccupata, aveva una faccia molto seria e io continuavo a preoccuparmi e niente, mi ha annunciato l'arrivo dei componenti della famiglia reale qui alla scuola One World. Io all'inizio pensavo che fosse uno scherzo e che David fosse un bravissimo attore e poi però mi ha mostrato la email scritta dal segretario della famiglia reale dicendo che loro guardano molto volentieri le mie lezioni e io sono tanto lusingata di questo e che hanno deciso di frequentare una vacanza studio proprio qui da noi alla scuola One World. Ragazzi, sinceramente io speravo che David avrebbe ingaggiato qualche istitutore di altissimo livello con un curriculum enorme, abituato ad avere a che fare con nobili, reali, eccetera. Invece, purtroppo, per fortuna, la sorte ha voluto che io fossi la prescelta e dunque io sarò la loro insegnante e non so che fare come al solito. Prima di tutto ho ricevuto un sacco di raccomandazioni da parte di David e ovviamente prima cosa non arrivare in ritardo, parla il meno possibile, evita le figuracce, conta fino a 100.000 prima di aprire bocca, eccetera, eccetera. Poi mi sono documentata sulle cose da fare e non fare con i reali. Per esempio, devo evitare le borse giganti come questa, forse hanno paura che ci sia qualche bomba o non lo so, però funziona così, infatti stasera porterò con me soltanto la mia pochette. e poi non posso toccarli o stringere loro la mano, a meno che non siano loro per primi a porgerla a me, quindi dovrò fare attenzione a tutte queste cose, in più abbigliamento, elegante, ma allo stesso tempo discreto e tanto altro. Poi, terza cosa, ho fatto un corso di galateo molto accelerato e ho imparato diverse cose come a stare dritta, aiuto, questo è pesantissimo, e a portare a camminare con un libro sulla testa per un sacco di tempo, è stato terribile, come comportarsi a tavola e tantissime altre cose che non so sinceramente se riuscirò a mettere in pratica. Quindi questa è la situazione. Adesso i reali stanno arrivando, io ho il cuore a mille, sono emozionatissima, diciamo, l'ingresso della scuola, pullula di giornalisti, fans, poliziotti, guardie del corpo, tutti che aspettano al varco i nostri reali. E i reali giusto per mettere il dito nella piaga, anche se involontariamente. Sapete? Ve l'ho già detto che cosa mi hanno chiesto. Siccome andremo a cena, loro hanno dato a me l'incarico di scegliere le pietanze e i vini da ordinare, ma in realtà, come vi ho detto, io non ho mai messo piede in vita mia in un ristorante di quel livello, è anche perché una cena lì costa più dell'affitto di casa mia. In realtà, ragazzi, io una volta stavo per entrare nel ristorante in cui ceneremo stasera, che è bellissimo, di altissima classe, giusto per curiosità, ma davanti all'ingresso c'era un gradino terribile, ragazzi io mi vergogno anche a dirlo, in cui sono inciampata e dalla vergogna sono scappata via. Dunque ragazzi, io penso che stasera farò attenzione a non inciampare di nuovo in quel gradino e sto pensando, secondo voi, dovrei dire ai reali, vostre altezze reali, facciano attenzione al gradino? Ma no, ma non ce ne sarà bisogno. No, 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 penso che non ce ne sarà bisogno perché loro sono così perfetti, così eleganti, loro non fanno mai figuracce, non sono mica come me, non sono imbranati come me, e dunque penso che non ce ne sarà bisogno ma vedremo. In ogni modo, una volta entrati nel ristorante, dopo che i camerieri ci avranno fatto l'inchino e detto, vostre altezze reali e non reali, prego si accomodino pure, prendano pure posto nel loro tavolo riservato, e in non reali sarei io, mi immagino già la situazione, allora a quel punto noi ci potremo sedere e ci porteranno il menù. Dunque ragazzi, io adesso vi mostrerò il menù del ristorante in cui ceneremo stasera e voi mi consiglierete che cosa consigliare alle loro altezze reali. Ecco qui il menù ragazzi, adesso ve lo presento, l'ho messo anche nella mia cartellina, così lo analizzeremo insieme, lo commenteremo, decideremo insieme che cosa consigliare loro. Ragazzi, Dio mio, è terribile, non mi ispira per niente. Allora ragazzi, sarà che io non posso permettermi questi cibi, ma alcuni sembrano disgustosi, altri non so minimamente che cosa siano, hanno nomi incomprensibili o ingredienti mai sentiti, non lo so ragazzi, davvero inoltre non conosco neanche i gusti dei reali, io per esempio non mangio ne pesce, ne frutti di mare, io non so se loro mangino carne, pesce, crostacei, se siano vegetariani o vegani, non ho idea ragazzi, comunque questo è il menù, tra poche ore, anzi tra pochissimo, non tra poche ore, io sarò con loro e dovrò aiutarli a scegliere qualcosa di buono dal menù e adesso lo vediamo insieme, ma non mi ispira per niente sinceramente, vediamo se almeno voi ci capite qualcosa. Allora, iniziamo dagli antipasti, io come primo antipasto leggo, antipasto misto naxos, ragazzi che vuol dire? Io non so che cosa sia davvero, cosa vuol dire? Naxos, qua non c'è nessuna spiegazione, se mi chiederanno il significato io dirò mi scusino vostre altezze, proprio qui, in questo punto, non riesco a leggere bene il menù, cosa devo dire altrimenti? Perché veramente non so dare nessuna spiegazione, vediamo un po' il secondo antipasto, polpi, maiolini murati, murati, sapete cosa vuol dire murare? Cioè il muratore mette il cemento, la calce e mura, io veramente non ho idea che cosa sono e se mi dovessero chiedere che cosa sono, come si mangiano e perché hanno murato i polpi, io che cosa rispondo? Non lo so, io risponderò le vostre altezze reali prestino attenzione alla crosta di cemento. Non saprei che altro dire, ragazzi. Continuiamo con gli antipasti, ragazzi, qua è grave la situazione, cozze scoppiate. Prima di tutto che vuol dire? Io non ho idea, scusate, ma io sarò a cena con i reali e cozze scoppiate, qua c'è paura di un esplosivo, perché sono esplose o che è successo? Oh mio Dio, io mi sto preoccupando, cosa devo dire adesso? e qui in questo caso dovrò dire per forza non si preoccupino vostre altezze, non c'è un esplosivo dentro le cozze, è soltanto un nome particolare di questa pietanza e a questo punto forse non mi crederanno e manderanno le loro guardie per perquisire la cucina, io mi sto preoccupando, ragazzi, andiamo avanti con gli antipasti perché mi sta già venendo l'ansia. Allora, poi abbiamo... Ok, wow, questo non mi piace, omelette con baccalà, verdure e grue di cacao. Allora, a parte che mi sembra disgustoso e poi non ho capito l'ultimo termine, grue, mi faranno domande, io non so niente, ragazzi, io magari dirò la provino pure se gli ingredienti dovessero essere di loro gradimento, dirò qualcosa così, perché altrimenti che cosa dico? Poi, oddio, neanche questo mi piace, oddio, poi io sarò schizzinosa quello che volete, però qui abbiamo una lingua di bue, ok, con verdure miste, acciughe e prezzemolo, peggio che andare di notte, non mi piace per niente, ma allora forse dirò l'assaporino se di loro gradimento, per i miei gusti è un tantino umida, cosa devo dire? ok, poi, oddio, questo mi spaventa pure, ragazzi, ma questo è un ristorante di lusso e si paga così tanto per mangiare queste cose, io rimanerò, forse rimanerò a digiuno, ragazzi, perché a me non piace niente di tutto quello che ho letto finora, a voi, ditemi qualcosa a voi, aiutatemi, datemi consigli, perché qua abbiamo musetto di maiale fondente, fondente, a me, io mi impressiono veramente soltanto all'idea, non voglio neanche immaginarlo, poi perché è fondente, non ho proprio idea, e io forse dirò loro, vostre altezze reali, non si impressionino, in Sardegna vedere il muso di un animale a tavola è normale, veramente non saprei che altro dire, non lo so, andiamo avanti, ma finora, poi questo proprio non so che cosa sia, The Cube, sembra il nome di una discoteca, se mi chiedono che cos'è, come si mangia, cosa dirò, io al massimo dirò, notino l'anglicismo di questa pietanza, perché non saprei dare altre spiegazioni, ragazzi, 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 ho trovato un antipasto perfetto, perfetto assolutamente, questo mi piace assolutamente, sembra che non abbia niente di strano, e che sia perfettamente adatto all'oro, scrigno reale di verdure, meglio di così, me lo immagino già, tutto elaborato, immagino in un ristorante di lusso, e quindi dirò, vostre altezze reali, prendano pure un bello scrigno di verdure, questo secondo me è perfetto anche per me, perché sembra che non abbia niente di strano, poi se loro vorranno il musetto di maiale o altre stranezze simili, ragazzi, affari loro.